Santa Lucia 2017 sarà ricordata con gratitudine dai 37 dipendenti del Comune che questa mattina tra i regali hanno scartato anche un'assunzione a tempo indeterminato. Il via libero infatti è stato dato questa mattina dalla Giunta riunita nella seduta settimanale sul tavolo tra i vari argomenti che hanno tenuto gli assessori impegnati per tutta la mattinata proprio la trasformazione dei contratti a tempo determinato relativi al personale del settore sociale e politiche educative che saranno inquadrati stabilmente all'interno dell'organico dell'ente. L'ultima ondata di assunzioni era avvenuta nel 2010 sotto la Giunta Perri che aveva regolarizzato le posizioni di 32 precari una vicenda che si era trasformata in una contenzioso legale con la Corte dei Conti che ravvisava nei confronti degli ex amministratori il dolo e un danno erariale per la comunità risoltasi poi con la piena assoluzione solo nel 2016.